Cosa farai quando sarò al campo di game design? Morirò dalla noia? Sì. Scusami che è la moush-koush chiama, sono l'eroina del coding di cui il Wisconsin ha bisogno. Sono su un enorme treno, è davvero davvero uno strano treno. Una nuova avventura! Come funziona questa porta? Tu sei un vero robot? Ci sono altre persone qui? Questo è il vero aspetto dei treni? Quante anatre! Io sono Atticus, chiedo il permesso per accompagnarvi. Wow, ho visto tantissime cose strane su questo treno. Alcuni ci hanno spaventati, ma per altri abbiamo ballato. Ballare è spaventoso. Sei una palla davvero bizzarra, vero? Sì. Wow, sono di nuovo impressionata! Che c'è nel prossimo vagone? Ritorna al posto! Sei nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma che diavolo! Con quel mostro in libertà, Corginia non sarà mai al sicuro. Dobbiamo collaborare tutti e attaccare il mostro! Vado a controllare se è già andata via! Direi che è meglio andare. Vi servirà il mio aiuto se volete andarvene. L'uscita è bloccata da un puzzle irrisolvibile ed è troppo pericoloso andarci da soli. Io me ne andrò da qui, quindi da adesso non ci fermeremo più per nulla! Dimmi, gattina. Vuoi andartene da questo treno? Infinity Train libro primo. Prima parte. Primi cinque episodi disponibili dal 12 novembre. Solo su Telegram e YouTube.